Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono le K300 e bentornati in questo prossimo video di Fortnite. Oggi ragazzi andremo a parlare dell'evento I ricercati che come sapete è uscito in questa stagione del capitolo 4 stagione 1 che domani sarà praticamente terminato perché questo era l'ultimo giorno tecnicamente per completare le sfide però comunque l'evento era ancora abilitato. Mentre domani effettivamente, tecnicamente anzi, dovrebbero disabilitarsi proprio anche tutti i cavo, tutti i vari boss, tutte insomma le cose che racchiudevano l'evento anche a livello di gameplay non soltanto a livello di sfide oppure cosmetici. Ragazzi che dire, è il miglior evento di sempre, ovviamente evento parlo gameplay e tutto, insomma avete capito, non evento live, bensì un evento che ragazzi per la prima volta Epic Games dopo tanti anni, come vi dicevo anche nel riassunto della patch in cui appunto è uscito l'evento, è il primo evento dopo tanto tempo che non è in collaborazione con marche di terze parti, quindi che può essere la Marvel, che può essere la DC, che può essere una collaborazione con un film specifico oppure con un'azienda che produce giocattoli, un esempio, no? E' veramente stato bello, infatti questo video è un po' così per ringraziare anche da un lato Epic Games di averci dato finalmente opportunità di capire che ancora Epic Games ce la fa, però ogni tanto cade e quindi ci vuole chi la rialza. Ovviamente spero che con questo Epic Games abbia capito che abbiamo bisogno di questi tipi di eventi e non abbiamo bisogno dell'evento stupido dove c'è LeBorn James, cioè non ce ne frega assolutamente niente della sua skin che esce nello shop, eccetera. Per cui ragazzi, sono molto molto contento. Per tanti motivi, anche se questo evento, diciamo, era molto molto similare alla stagione 2 capitolo 2, perché diciamocelo, era molto molto simile con il sistema delle guardie, anche se non era esattamente uguale, però i KV, insomma, vengono proprio da quella stagione. In più appunto i boss che, magari in questa nuova maschera, diciamo, in questa nuova variante, hanno molta più vita e sono molto più particolari con le armi esotiche a posto delle armi mitiche, insomma, qualcosa è cambiato. Però nonostante ci siano delle similitudini con il vecchio sistema di gameplay che hanno proposto durante gli anni scorsi, comunque è stato un bel evento. Anche perché hanno riaggiunto nel loot le pistole doppie, la pistola silenziata, il barret, e poi, oddio, non ricordo le altre. Comunque hanno aggiunto veramente armi belle, che sono... cioè erano belle nel gameplay, divertivano, cioè c'erano tutte queste armi che divertivano, e poi per una volta la stagione si è un po' caricata di armi nuove, che ovviamente durante la stagione sono state molto molto carenti. Se non avessero aggiunto il tre colpi, forse il gameplay sarebbe morto nel giro di niente, praticamente. Però veramente molto bello, le nuove armi esotiche, ad esempio, anche se avevano tutto lo stesso design, però avevano comunque abilità molto molto interessanti e anche molto molto OP. Devo essere sincero, questo evento, ragazzi, è stato veramente tanta tanta roba. Ho amato il fatto dei cavù, sempre delle carte, delle cose, quindi che tu prendevi la cartina, la insetivi e si apriva il cavù e c'era veramente un macello di loot. Tra l'altro, se si spaccavano i lingotti, quelli proprio fisici, ti uscivano proprio i lingotti, o questa cosa, onestamente poi l'ho scoperta giocando, ed era molto molto interessante. E tra l'altro, mentre si potevano aprire le chest, trovavi delle armi esotiche. Quindi, appunto, c'era anche molta molta varietà delle armi esotiche, che non per forza dovevano essere trovate in un determinato luogo, oppure per forza uccidendo un boss, ma anche attraverso le casse. E tra l'altro, anche gli ottimizzatori della realtà, quindi rimanendo diciamo in linea anche con la stagione stessa, hanno aggiunto appunto un sacco di ottimizzatori molto molto utili. Devo essere sincero, come quello del cecchino che aggiunge un colpo in più al cecchino, col barret da utilizzare, super OP. Il fatto di avere due chiavi istantanee, che non è male. E il fatto anche di avere un'arma esotica casuale nell'interno dell'inventario. Queste sembrano cose un po' così, dice, vabbè, ci sta. Però, in realtà, erano molto molto belle, divertenti e soprattutto utili. Ecco, appunto, anche nel caso, come vi dicevo, del cecchino, anche molto molto OP. Andiamo poi a parlare, ovviamente, del fuoco, quindi del livello di sospetto. Che a me all'inizio sembrava un po' una stupidaggine, se devo essere onesto, non ci credevo. Però una volta, ragazzi, raggiunto tutto il pieno dei fuocherelli, diciamo, si ottenevano delle abilità davvero fighe. Come, ad esempio, avere più lingotti dai nemici che uccidevi, tecnicamente anche dalle casse. Non so se erro, però, ditemelo qua sotto nei commenti. Avevi più velocità, anche se non correvi, eri più veloce, anche se facevi, diciamo, la corsa normale. E poi, soprattutto, cosa importante, che era proprio la più figa, infatti, si otteneva proprio con il massimo massimo dei fuochi. Era, appunto, di curarti e rischildarti dopo tot tempo, senza appunto l'ausilio delle pozzette o delle benne. Quindi, se tu avevi questo livello di fuoco infinito, praticamente, non ti servivano niente le pozzette e le benne. Infatti, io molto spesso non me le portavo, piuttosto mi portavo armi o gadget, che comunque sarebbero stati sicuramente molto più utili. Quindi, ragazzi, che dire, in questo evento, ragazzi, 10 su 10, ripeto, non era niente di che, però è veramente, è stato veramente un bel evento. Poi, la cosa del pass battaglia, diciamo, no? Di quel piccolo pass battaglia, che, appunto, si completava con quelle sfide, che, onesto, erano difficili. Però, diciamo che erano anche fattibili, nel senso, sì, erano difficili, però se ci si ritentava, 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 alla fine non erano così impossibili. Ecco, però ci sta. Ecco, tutto qua. E poi, anche, parlare del fatto che ci davano una skin in omaggio, due picconi, un deltaplano, un deltaplano quando si vinceva durante questo evento. Quindi, insomma, veramente, ragazzi, ci sono riempiti di roba. Peccato che questa cosa l'hanno fatta nelle ultime due settimane. Nel senso, in realtà ci sta che l'abbiano fatta in queste due ultime settimane, proprio per non annoiare la gente, proprio perché a fine season è che la gente, ovviamente, si annoia e aspetta semplicemente quella nuova. E' stata anche una cosa molto, molto strategica. Però, come cosa, l'avrei preferita prima, tipo, ad esempio, quando c'era proprio il vuoto prima, tipo, ad esempio, dopo Natale, c'è stato un vuoto assurdo. All'interno della season. Però, è anche molto strategica sta cosa che l'abbiano fatto proprio due settimane, sì, prima della fine della stagione. Perché, praticamente, ormai la prossima settimana ci sarà la stagione nuova, per cui, ormai, giustamente, non ha più senso l'evento. Anche se io l'avrei, onestamente, l'avrei prolungato ormai fino alla fine della stagione, perché, appunto, voglio dire, ormai la prossima season, tecnicamente, cioè, scusate, alla prossima settimana, ormai la season giunge al termine. Quindi io l'avrei lasciato, detto onestamente. Però loro hanno preferito così e si farà così. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io, ragazzi, do questo evento 10 su 10, c'è poco da fare. E forse è stato il migliore evento non con l'Hub, ripeto, e lo ripeterò sempre, migliore che abbiano mai fatto in questi ultimi anni. Spero che questo video vi sia piaciuto. Allora, scrivetemi, ovviamente, qua sotto nei commenti anche voi che cosa ne pensate di questo evento. E niente, noi ci vediamo, un prossimo video.